La caccia al colpevole, aperta dal governo già poche ore dopo il crollo del Ponte Morandi, si è tradotta in una giornata da incubo a Piazza Affari per il titolo Atlantia, la holding del gruppo Benetton a cui fa capo la società Autostrade per l'Italia. L'annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di aver avviato l'iter per la revoca della concessione ha infatti causato un crollo del titolo di oltre il 20%. Autostrade per l'Italia si difende e in una nota spiega che l'annuncio della revoca è arrivato senza una contestazione specifica e senza accertamenti sulle effettive cause dell'accaduto. Inoltre afferma di aver investito per la sicurezza dei 3.000 km di rete almeno un miliardo l'anno e per questo, si dice fiduciosa, di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario. Ma il tema che in queste ore sta infiammando la politica è se realmente sia possibile revocare la concessione ed eventualmente se la revoca riguarderebbe l'intera rete autostradale o solo l'autostrada A10, dove si trova il ponte Morandi. Inoltre c'è da capire quanto costerebbe. Il vicepresidente del Consiglio di Maio ritiene che lo Stato non debba pagare penali per l'annullamento del contratto, ma gli esperti non sono dello stesso parere e parlano di un iter molto lungo, complesso e costoso, tanto che una fonte di governo citata dall'agenzia Reuters non esclude che la revoca della concessione possa in realtà tradursi in una pesante sanzione per società autostrade. Da Bruxelles, intanto, un portavoce della Commissione europea ha ricordato che gli Stati membri sono liberi di stabilire priorità politiche specifiche, ad esempio lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture, che l'Unione europea ha incoraggiato gli investimenti infrastrutturali in Italia e che l'Italia è uno dei principali beneficiari della flessibilità all'interno del patto di stabilità. Il nostro Paese, dunque, negli ultimi anni ha potuto investire e spendere molto di più. Una risposta chiarissima al ministro dell'Interno Salvini, che aveva dato la colpa ai vincoli europei, che impediscono di spendere soldi per mettere in sicurezza le scuole e le autostrade.